Forl, 22 gennaio 2017 tragedia stamattina a Forlalle 10.45 circa, un 15enne morto per le gravi ferite riportare in un incidente stradale. Il giovane, che frequenta Liti Marconi, oggi non era andato a scuola. Era in sella una Ducati Monster 600 del fratello maggiore e stava percorrendo via Dragoni in direzione via Monari quando, all'incrocio con via Resce, ha perso il controllo del mezzo per cause ancora al vaglio degli inquirenti. Il giovane finito contro un'auto in sosta, mentre la moto ha proseguito la corsa andando a schiantarsi contro uno spartitraffico. Nonostante il casco, il giovane avrebbe riportato un trauma cranico importante. Il ragazzo morto durante la corsa verso l'ospedale. Altro su MSN. Val di Suse incidente moto. La video ricostruzione. Corriere TV. Sponsorizzato quale Surface fa per te. Scopri le offerte più convenienti sul Microsoft Store ufficiale maggiore maggiore.